ciao ragazzi bentornati al mio video e benvenuti ai nuovi iscritti oggi faremo un video pomeridiano di pulizia e motivation con la preparazione della cena andrò a fare una focaccia la classica focaccia di nino vi lascio al mio video e spero che vi piaccia e vi ricordo di iscrivervi al mio canale vinci rendazzo e mettermi un like se vi piace il video vi raccomando non mi lasciate da solo e fatemi buona ottima compagnia un bacio a tutti e dopo per prima cosa faccio l'impasto della pizza perché deve levitare a parte ciao 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 Tutti gli ingredienti nel boccale lo aziono e la faccio levitare lì dentro e comincio a fare le pulizie Grazie per la visione Purtroppo io lavo i piatti a mano perché non ho la pastoviglie Grazie per la visione 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 Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie per la visione Grazie a tutti 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 Grazie a tutti